Nuova edizione di Spazio Notizia, la nostra informazione è ben ritrovati a questo nuovo appuntamento. In apertura i dubbi del Ministero dell'Ambiente sul ponte dello Stretto di Messina. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha richiesto 239 integrazioni di documenti alla società Stretto di Messina S.P.A. nell'ambito della valutazione del progetto del ponte. Per la valutazione di impatto ambientale, la cosiddetta via, sono state richieste 155 integrazioni. Altre 66 sono state richieste per la valutazione di incidenza, la vinca, che verifica le conseguenze di un'opera sui siti Natura 2000, i siti protetti di interesse Unione Europea. Per il piano di utilizzo terra, il PUT, sono state richieste 16 integrazioni, per la verifica di ottemperanza 2. Questo quanto si legge sul sito della Commissione via Vasto del Mase. Con una nota, il Ministero dei Trasporti fa sapere che le integrazioni al progetto del ponte sullo Stretto, richieste in sede di conferenza di servizi, saranno fornite entro 30 giorni. Si tratta della normale procedura ed è corretto approfondire tutti gli aspetti di un'opera che sarà unica al mondo. E adesso la cronaca. Operazione Pandora, operazione dei carabinieri a Catania, arrestato il sindaco di Tre Mestieri Etneo, Santi Rando, coinvolto anche l'ex vicepresidente della regione, Luca San Martino, ex, perché è scattata proprio in queste ore la sospensione per un anno dalla carica. Operazione Pandora, oltre 100 carabinieri del comando provinciale di Catania stanno eseguendo nelle province di Catania e Palermo un'ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale Etneo, nei confronti di 11 soggetti tra esponenti politici, funzionali comunali ed imprenditori, accusati a vario titolo di scambio elettorale politico mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, corruzione aggravata, istigazione alla corruzione e turbata libertà degli incanti. Acquisiti nell'indagine coordinata dalla Procura distrettuale di Catania è condotta dal nucleo investigativo di Catania tra il 2018 e il 2021, tanto gli accordi illeciti tra alcuni amministratori del comune di tre mestieri Etneo ed elementi vicini alla cosca mafiosa Santa Paola Ercolano riguardanti l'elezione dell'attuale sindaco Santi Rando nel 2015, quanto la successiva degenerazione affaristica dell'ente, messa in atto da funzionari infedeli, per concedere permessi e assegnare lavori agli imprenditori amici. È messo inoltre, nell'ambito di una strategia dei vertici comunali, tesa a neutralizzare ogni forma di opposizione politica, l'accordo corruttivo con lo storico consigliere d'opposizione Mario Ronsisvalle, poi transitato tra i sostenitori del Rando per le amministrative del 2021. In particolare il Ronsisvalle, titolare di una farmacia a tre mestieri, anche grazie all'intervento di Luca Rosario San Martino, principale referente politico del primo cittadino all'epoca dei fatti, deputato regionale e attuale vicepresidente della regione, sarebbe stato avvantaggiato attraverso la riduzione del numero delle farmacie presenti nella pianta organica comunale, promettendo in cambio il sostegno elettorale per le elezioni europee del 2019, al candidato sostenuto dal San Martino. Nell'ambito della stessa ordinanza, il GIP ha riservato la propria decisione nei confronti di un militare dell'arma in servizio attivo, del cui ausilio si sarebbe avvalso Luca San Martino, dietro compenso di somme di denaro per eseguire attività di bonifica tecnica della ricerca di microspie nei suoi uffici. Il militare, pertanto, sarà sottoposto ad interrogatorio, in esito al quale il GIP valuterà l'applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, come richiesto dalla Procura della Repubblica. E proprio dall'assessorato all'agricoltura, adesso voltiamo pagina, retto da Luca San Martino, erano arrivati i finanziamenti per i nuovi interventi inerenti l'emergenza siccità proprio in ambito agricolo. 13 milioni a disposizione del Consorzio di Bonifica 2 di Palermo per avviare la manutenzione straordinaria delle infrastrutture irrigue del comprensorio Dagale Renelli, che comprende i territori dei comuni di Poggio Reale nel Trapanese e di Contessa in Tellina e Monreale, in provincia di Palermo. Gli ha stanziati il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare delle Foreste per un intervento necessario alla luce del deterioramento degli impianti. Il finanziamento del Ministero, afferma l'assessore regionale all'agricoltura Luca San Martino, ci consentirà di proseguire il percorso intrapreso per risanare l'efficientamento idrico delle reti irrigue esistenti e migliorare la capacità di erogazione dei servizi per i nostri agricoltori. La qualità delle nostre infrastrutture è un elemento essenziale nella lotta agli sprechi, una sfida di rimente per la Sicilia, unica regione d'Europa in zona rossa per carenza di acqua. Dall'emergenza siccità all'emergenza incendi ci spostiamo ad Acireale, dove il sindaco Roberto Barbagallo ha stabilito un nuovo piano di prevenzione anti-incendi e ha istituito anche una task force. L'amministrazione comunale di Acireale dà disposizioni stringenti per prevenire i rischi incendi. L'ordinanza, firmata dal sindaco Roberto Barbagallo, obbliga i proprietari dei terreni a provvedere agli interventi di pulizia entro l'1 maggio e amplia le fasce portandole a 20 metri dai punti sensibili e dalle strade del centro cittadino e a 10 metri da terreni confinanti e strade. Il sindaco e l'assessore alla protezione civile Giuseppe Vasta hanno disposto l'attivazione di una task force formata da 12 dipendenti degli uffici Ambiente e Polizia Locale, a cui si aggiungeranno i volontari Arci Caccia e il supporto tecnico di due droni, che controllerà il territorio e raccoglierà tutte le segnalazioni. Sarà attivata inoltre una mail dedicata alle segnalazioni dei cittadini. È stato richiesto inoltre alla protezione civile regionale il potenziamento di mezzi con due autobotti con lance. Proviamo a fronteggiare le emergenze incendi attraverso la prevenzione, che è l'unica arma che abbiamo a disposizione. Chiedo alla cittadinanza di collaborare, facciamo tutti il possibile affinché non si ripeta la situazione drammatica dello scorso anno. L'ordinanza prevede che tutti i proprietari di terreni incolti debbano ripulirli entro l'1 maggio. I termini si accorciano, la circolare regionale prevede che i comuni provvedano entro l'1 giugno a mappare tutti i terreni incolti e a sanzionare e diffidare l'inadempienti. La mappatura sarà trasmessa all'assessorato alle risorse agricole che attraverso il corpo forestale avvierà tutte le attività sostitutive in danno. L'amministrazione si riserva comunque di avviare rapidamente tutte le azioni sostitutive in danno in caso di terreni che destino particolari preoccupazioni perché vicino al centro o a punti sensibili della città. Abbiamo un mese di tempo per mappare tutto il territorio. Per questo abbiamo creato una task force composta da dipendenti dei settori polizia locale, protezione civile e ambiente che si occuperanno di verificare il rispetto dell'ordinanza e che si avverrà del supporto di due droni. A partire dall'1 maggio avvieremo la verifica di tutto il territorio. Successivamente arriveranno le sanzioni, le diffide ai proprietari e l'elenco verrà inviato alla regione con cui lavoreremo in piena sinergia, ha spiegato il sindaco Roberto Barbagallo. Restiamo ad Acireale dove il sindaco Roberto Barbagallo ha firmato l'ordinanza che impone il divieto di balneazione in molte frazioni marinarie accesi. Acireale segue Palermo sulla scia delle ordinanze che impongono il divieto di balneazione in alcuni tratti della costa. La suddetta ordinanza, firmata dal sindaco Roberto Barbagallo, riguarda le seguenti zone con le suddette ragioni. Divieto di balneazione permanente per motivi di inquinamento nella frazione di Capomulini, all'altezza dello sbocco di via Gurne e di via Garitta, fino a fine della Baia. Divieto di balneazione permanente per ragioni legate alle aree portuali nelle frazioni di Pozzillo, Stazzo, Santa Maria la Scala e Santa Tecla, quest'ultima compresa la zona della Garitta. In località Santa Caterina e località Acque Grandi, in seguito al divieto di balneazione emesso dalla Capitaneria di Porto di Catania per motivi di sicurezza. E poi tra l'hotel Santa Tecla e il camping La Timpa di Santa Maria la Scala, nei tratti di mare vincolati a parco o ad oasi naturali, come la riserva naturale orientata della Timpa. E proprio in prossimità dell'arrivo dell'estate ecco che arriva il rinnovo per il 2024 del bonus zanzariere. Con l'avvicinarsi dell'estate arriva anche il rinnovo del bonus zanzariere. Agevolazione all'efficientamento energetico dell'immobile, che non è un incentivo in sé, bensì può rientrare negli interventi agevolabili con l'eco bonus o il super bonus. Le zanzariere devono avere il marchio europeo e devono essere fissate. Non rientrano nel bonus infatti quelle smontabili. Devono inoltre essere regolabili e proteggere una superficie vetrata come una finestra o una porta finestra. È possibile ottenere una detrazione IRPEF del 50% ripartita in 10 quote annuali, su una spesa massima di 60.000 euro per unità immobiliare. Il limite comprende l'acquisto e l'installazione delle zanzariere e l'eventuale rimozione o smaltimento di vecchi dispositivi o di opere accessorie. È il costo del professionista incaricato per la comunicazione Enea. Al fine di ottenere la detrazione IRPEF del 50% bisogna inviare una comunicazione all'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie. L'energia e lo sviluppo economico sostenibile entro 90 giorni dal collaudo dei lavori. La comunicazione deve contenere una scheda descrittiva dell'intervento. Come verbale di collaudo è valida anche una dichiarazione di conformità emessa dall'impresa che ha effettuato i lavori. In ultimo, è importante ricordare che i pagamenti relativi alle spese per le quali si chiede la detrazione debbano essere tracciabili, bonifici o carte di credito o debito. Inoltre, è importante che sul documento che attesta la transazione ci siano il codice fiscale del contribuente o la partita IVA del soggetto beneficiario. Ci spostiamo a Catania, voltiamo pagina dove la Fipe Conf Commercio ha promosso la festa del gelato. Servizio di Lucio Di Mauro. Fino a domenica 21 aprile, Catania e Fipe Conf Commercio celebrano la prima festa del gelato. Per ogni prodotto artigianale acquistato da un adulto in un locale aderente all'iniziativa, un bambino fino a 10 anni ne avrà uno in omaggio. Un'intera settimana dedicata a lui, il gelato artigianale, re della bella stagione. Dolce, rinfrescante, ma soprattutto sano, nutriente, digeribile e adatto a tutte le età. Dal 15 al 21 aprile comincerà la prima edizione della festa del gelato, organizzato da Fipe Conf Commercio Catania. Questo evento è rivolto a tutti i bambini al di sotto di 10 anni che si potranno arrecare, accompagnati naturalmente da un adulto, presso un pubblico esercizio che ha aderito all'iniziativa. Il papà, lo zio, il genitore potrà comprare un gelato e il bambino avrà in omaggio il secondo gelato. Questo evento è stato fatto sicuramente per dare un sorriso ai bambini, perché sappiamo sempre bene che qualunque bambino di fronte a un gelato avrà sicuramente un grande sorriso. E sia per far conoscere questo alimento sano, che molte volte viene soppiantato da gelato industriale. Quindi vogliamo ricordare alla nostra clientela di far consumare ai propri bambini un gelato artigianale che è sicuramente una merendina molto nutriente e buona da gustare. Sì, è la prima edizione a Catania, ma è la prima edizione in Sicilia che si fa per la nostra associazione. È rivolta naturalmente, come abbiamo detto, ai bambini, ma dobbiamo dare un impulso maggiore a quello che sono le nostre aziende per far capire naturalmente che dietro tutto ci sta qualità, ci sta un servizio e ci sono degli imprenditori che rivolgono il tutto a una platea che naturalmente sono i nostri clienti e i nostri futuri clienti che sono i bambini. Naturalmente basta scaricarsi il coupon che troveranno sia nelle scuole che comunque anche nelle nostre gelaterie e presentarsi con il papà, il genitore o con i nonni e il bambino avrà offerto il gelato, mentre il grande naturalmente pagherà il proprio gelato. Ma è un'iniziativa proprio a dimostrazione che i nostri imprenditori cercheranno di dare un prodotto di qualità e far capire che il gelato naturalmente può essere consumato in tutte le stagioni. E andiamo adesso a Tormina per il racconto di un eclissi mai vista prima. Professore Passalacqua, un gruppetto di astrofili è tornato ora dall'America per osservare l'eclissi di sole. Ci vuole spiegare dal punto di vista scientifico cosa avete osservato? Sì, abbiamo realizzato il sogno di una vita, di andare a vedere la totalità dell'eclissi. L'eclissi ce ne sono in continuazione, ma l'eclissi totale qui in Italia non avvengono dagli anni 60 e non avverranno più ancora per tantissimi anni. Quindi ci siamo organizzati, abbiamo visto qual era l'eclissi più probabile, più vicina, era quella negli Stati Uniti, c'era stata una nel 2017 e noi abbiamo preferito questa. Siamo andata a scegliere un posto dove le condizioni climatiche avrebbero permesso molto probabilmente la visione e anche un posto dove la totalità era più lunga. Abbiamo avuto una fase di totalità di 4 minuti, per cui l'eclissi è stata la più lunga del secolo. Ci siamo posizionati nelle campagne dell'Arkansas, vicino alla cittadina di Clinton, a ridosso della capitale Little Rock e abbiamo visto uno spettacolo sensazionale. La luna che si interpone tra terra e sole è una cosa abbastanza nota. Vederla in tv o vederla su internet non ha alcun pregio o vantaggio rispetto al fatto di vedere il buio che si avvicina e che si materializza per 4 minuti, si vedono le stelle, c'era la possibilità anche di vedere una cometa in transito, la natura è impazzita, i bambini sono impazziti, abbiamo sentito tornare i bambini, qualcuno ha sparato un colpo di fucile, quella poca gente che era lì con me è diventata davvero matta. E poi la ripresa della normalità, è un spettacolo che cambia veramente l'esistenza perché da quel momento in poi non si sa più cos'altro chiedere di bello da vedere nella natura. A Siracusa la mostra di Igor Mitorai, 25 delle opere realizzate proprio dall'artista in esposizione nell'area Neapolis di Siracusa. Una performance teatrale e musicale con oltre 40 artisti per celebrare la più grande mostra scultore a cielo aperto di Igor Mitorai, visitabile già dal 26 marzo scorso e che coinvolgerà alcuni dei luoghi più straordinari e suggestivi della Sicilia fino al 31 ottobre 2025. La cerimonia inaugurale nell'area archeologica Neapolis di Siracusa con uno spettacolo dedicato al mito di Icaro, scritto e diretto dalla regista Gisella Calì. Tra i partecipanti l'assessore ai beni culturali Francesco Paolo Scaffinato e l'assessore al territorio Elena Pagana. Delle 27 opere monumentali che compongono il percorso espositivo 25 potranno essere ammirate all'interno del parco archeologico di Neapolis a Siracusa mentre si innalzerà a 1700 metri sulle pietre laviche dell'Etna l'opera bronzea del teseo screpolato e dallo spazio antistante al castello Maniaceo Ortigia la scultura alata Icaria che guarderà verso il Mediterraneo. È un progetto in cui la regione siciliana crede molto, dichiara l'assessore ai beni culturali Francesco Paolo Scaffinato perché tende a valorizzare lo straordinario patrimonio storico e archeologico della regione come il parco di Neapolis in una logica totalmente innovativa. Una mostra di caratura internazionale che saprà richiamare il nuovo pubblico e rafforzare l'immagine della Sicilia nel mondo anche come volano per il turismo e l'economia. Le opere realizzate tra il 1993 e il 2014 in bronzo, ghisa, travertino e resina si integrano con i luoghi che le accolgono. Lo stile espressivo di Mitorai e la sua poetica ricca di surrealismo e simbolismo si manifestano infatti in armonia e continuità con i modelli della tradizione classica e romana, dialogando allo stesso tempo con la natura. L'area archeologica e le esposizioni di Mitorai per la prima volta potranno essere visitate con il biglietto d'ingresso unico di 16,50 euro. L'orario di apertura è dalle 8.30 alle 19.30 con acquisto dei biglietti fino alle ore 18. Restiamo in ambito culturale ma ci spostiamo di città, andiamo a Palermo per la non-edizione della Via dei Librai. Previsti oltre 140 appuntamenti, incontri, dibattiti e nuovi spazi nel Cassaro, il cuore del centro storico di Palermo, in occasione della nona edizione della Via dei Librai, rassegna dell'editoria indipendente che si aprirà il 23 aprile e si concluderà il 28 aprile. Lo scenario della manifestazione avrà una nuova isola letteraria a Villa Bonanno, dove si terranno incontri su cinema e sport. Tra gli eventi in programma, gli aperitivi con gli autori, un libro, un vino, nel complesso teatrale Montevergini. La Via dei Librai, che l'anno scorso ha registrato oltre 100.000 presenze, continuerà ad avere il suo epicentro nel palco sul piano della cattedrale e nell'altra isola a Piazza Bologni. Il calendario degli eventi sarà presentato il prossimo 19 aprile. Il tema conduttore della manifestazione è Artigiani di Pace. Martedì 23 e mercoledì 24 saranno inoltre dedicati alle attività programmate con le scuole di Palermo. L'inizio sarà dato dalla tradizionale staffetta dei libri che scatterà alle 9 da Porta Felice. Siamo giunti al termine di questa edizione dell'informazione di Spazio Notizia. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di visione sui nostri canali. Grazie. 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 Grazie.